Diventare genitore a distanza con Alice for Children è facile e trasparente. Non ci sono sprechi perché tutto è gestito direttamente da noi. Chiamaci, vieni a trovarci oppure mandaci una mail, ti manderemo tutte le informazioni necessarie. Con un euro al giorno puoi adottare uno dei nostri bambini. Sono dei bambini meravigliosi che conosciamo personalmente una a uno. La donazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione annuale da 360 euro oppure in diverse rate mensili via bonifico, read bancario o bollettino postale. Il bambino sarà subito tuo figlio adottivo e potrai iniziare a conoscerlo. Ogni tre mesi ti invieremo un aggiornamento con la sua foto, la pagella e gli eventi importanti della sua vita. Potrai contattarlo via mail, via Skype seguendolo negli anni. Lo vedrai crescere nella speranza un giorno di abbracciarlo. Per aiutarti abbiamo preparato una guida per i genitori a distanza con tutti i consigli utili per vivere questa bellissima esperienza. Sarà come avere un figlio tuo, solo un po' più lontano. Diventa genitore a distanza. Entra a far parte della grande famiglia di Alice for Children. Grazie. 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 Grazie.